...sportive insieme per sfogliare i quotidiani. Partiamo questa mattina dal messaggero e da Perugia, Grifo, Oddo, Chiama Balic e Capone. Domani a Salerno il tecnico si affiderà ai due elementi espressamente chiesti in estate che sinora hanno deluso. L'ex Pescara pronto ad affiancare Iemmello in attacco per il Croato, autonomia limitata, alternativa in corsa. E' il 3-4-1-2. Intanto Gubbio che tegola, Cesaretti fuori un mese, si è fratturato lo zigomo, dovrà sottoporsi a operazione e dunque sarà fuori per alcune giornate. Piove sul bagnato a Gubbio ma anche a Perugia per la Sirconad, ieri travolta 3-0 da Milano che strapazza i Block Devils, Sirconad da incubo dice il messaggero. Tennis Training, intanto Foligno scorpacciata di titoli a Bari. Dalla seconda sportiva la Ternana è spuntata contro l'Avellino Gallo, ha schierato inutilmente tutti gli attaccanti a disposizione. Il mistero ripartipilo non utilizzato. L'allenatore Rosso Verde difende le sue scelte, dice ho effettuato tutti i cambi secondo una mia logica per vincere la partita. Intanto quei talenti degli anni 70 che hanno fatto la storia a Rosso Verde hanno aderito all'iniziativa a Marcord. Intanto Danilo Petrucci per l'Inlamoto festeggia 29 anni in Australia e dice ho voglia di riscatto. Il centauro Ternano dopo un buon inizio di stagione, insomma si è un po' arenato. Andiamo alla Nazione Grifo, il Grifo è la bestia nera di Ventura, ex cittina nazionale, ora tecnico della Salernitana, che non ha mai sconfitto i biancorossi. Un sorriso solo quando allenava il Giarre, quindi tanti anni fa. Ci sarà Aureliano di Bologna a fischiare lunga la lista dei precedenti. Capone prenota una maglia, nodi da sciogliere invece in mediana. Per la Ternana, Ternana che mastica Amaro, lo vediamo, altri punti persi al Liberati. I Rosso Verdi scivolano al terzo posto dopo la beffa in casa con Lavellino. E poi domenica serve il riscatto a Vibo Valencia, oggi seduta a porte chiuse. Gubbio la rabbia di Torrente, negato un altro rigore evidente, dice il tecnico. Pesano gli episodi ma anche le decisioni arbitrali che nel caso della gara con Limolese, lo vediamo qui, il fallo di mani evidente di Marcucci e il braccio non si può dire, certo, vicino al corpo. Situazioni episodiche possono fare la differenza anche in una stagione. Andiamo con la Nazione a vedere la Sir Perugia, esordio da dimenticare. Milano firma il colpo al Parabarton, Block Devils del tecnico Heinen, crollano al debutto, casalingo. Il coach dice dobbiamo crescere e lavorare, colaci, tanti errori. Perugia appena due punti in due partite, avendo vinto a Latina Alta e Brec. Bartoccini invece notturna in diretta TV, sfida da non perdere domani sera alle 20.30. A Firenze le perugine vanno a caccia della prima vittoria nell'anticipo di campionato contro il Bisonte, anche se il precedente di poche settimane fa, Spiritori Squadra, non è dei migliori, visto che la squadra perugina fu sconfitta. Uno sguardo anche all'eccellenza, Ducato in rimonta, sarà finale in Coppa con il Tiferno. Brevi dice i ragazzi, sono rimasti concentrati. Questo per la Nazione, noi chiudiamo la nostra carrellata sportiva con il Corriere dell'Umbria. Grifo è ottobre, il mese no, titola il Corriere. Un punto con Giunti, Bucchi il migliore con 13, Odda un sì, un K.O. e altre due gare da giocare. Sono cambiati gli allenatori e le squadre, ma il Bottino alla fine è sempre stato magro. Falasco si è allenato a parte, oggi rifinitura, prima di partire per Salerno. Domani alla Rechia, appunto, Aureliano di Bologna. Andiamo alla Sirconade che stecca in casa, esordio da dimenticare davanti ai Sirmaniaci per i bianconeri a tratti irriconoscibili. Milano travolge i Block Devils, molto confusi nell'anticipo della quarta giornata. Einen dice difese muro non hanno funzionato, insomma sono due fondamentali non da poco. Ancora non siamo pronti per giocare insieme, la colpa è anche mia che sono arrivato tardi. E viva la sincerità, diciamo la verità, Einen che è stato impegnato agli europei con la sua nazionale, o meglio la nazionale polacca, lui è belga, fino all'ultimo. Solo tre isse e altrettanti muri, numeri impietosi, Bata 10 punti e Leon 16. Non ha portato fortuna la presenza, vedete, di Oddo in tribuna con patron Sirci. Andiamo alle fere, altro che mura amiche contro l'Avellino, secondo K.O. in casa, dove sono arrivate solo due vittorie. Domenica si torna in trasferta, meglio così dove in trasferta ha colto più punti la squadra. Vibo, Valencia, Rosso Verdi a caccia nel sesto acuto. La classifica resta buona, ma per sognare la B serve migliorare a Liberati. Capitan Russo non si dà pace, dice, è una sconfitta che brucia. Andiamo a Gubbio, Notari sbotta, basta, sviste arbitrali, io ritiro la squadra. Pretendo rispetto, il rigore non dato con l'Imoleese, grida vendetta. Per Cesaretti, rottura dello zigomo con stop di almeno tre settimane. Vediamo qua l'evidente trauma, frattura che si vede a occhio nudo. intanto questo è il fallo di mani, insomma plateale in area da parte di Marcucci che l'arbitro ha, così, sul quale l'arbitro ha sorvolato. Intanto un ex Gubbio se la gode è Sandriani, Angelano che è ora sotto col derby. Gervasi, il team manager, dice il lavoro, dà già i suoi frutti. Siamo a Ciuccarelli, nuovo tecnico del Tavernelle. Dobbiamo trovare le motivazioni giuste, dice l'ex Rosso Blu. L'allarme per i troppi gol subiti, occhio a Cenerini. E Minelli, intanto la Tiferno 1919 vola, Morvidoni però frena, dice non è ancora una fuga quella in eccellenza. La consueta pagina del venerdì dedicata ai fischietti Umbri. Nica e Nicchi sono i più bravi, sette in pagella, complimenti. A proposito di arbitri, vi preannunciamo che lunedì prossimo avremo ospiti a fuori gioco una delegazione proprio della sezione Carlo Angeletti di Gubbio, guidata, capitanata dal presidente Pannacci ma anche e soprattutto dall'assistente di linea di serie A della Can A, Matteo Passeri, che proprio domenica sarà impegnato al Franchi di Firenze. Terni, lo sport e il fiore all'occhiello. È stata eletta città europea del 2021, sarà premiata a Roma il 4 novembre a convincere l'EIS il rapporto fra salute, integrazione sociale e infrastrutture. Intanto Andrea Conti e il progetto Moto2, ok, il primo test con il nuovo team per il Centauro Ternano. A Narni intanto si assegna la Coppa Italia di Atletica, Athletic Terni vuole calare il Tris, Atletica Paralimpica. Chiudiamo con un ex allenatore che ha fatto fortuna in Umbria, ovvero Massimo Barbolini, l'allenatore europeo dell'anno. Nel 2019 ha vinto la sua quarta Champions League, ora l'Ena Novara e appunto vive nella nostra regione. È tutto anche per le pagine sportive. Noi insieme diamo un'occhiata prima di salutarci al meteo con le slide che ci raccontano la giornata odierna nella quale l'area depressionaria trasla verso il centro Italia favorendo un lento miglioramento del tempo rispetto a ieri sulle regioni centrali. Sull'Umbria solo nubi di passaggio con rasserenamenti a partire dal tardo pomeriggio. Temperature in generale in aumento e buone anche le prospettive, soprattutto per il fine settimana a partire da domani, con tanto sole e salvo nebbie al mattino sulle valli interne. Queste sono anche le previsioni per il nostro fine settimana. Noi andiamo a chiudere e a salutarci con questo appuntamento della rassegna stampa che è nella replica finale 11. Informazione che torna stasera dalle 19.30 con il nostro OTG e con l'approfondimento del TRG+. Vi ricordo ancora, poi silenzio elettorale, noi torneremo a parlare di elezioni a giochi fatti lunedì mattina alle 7 con un'edizione davvero speciale di TRG Mattino della nostra rassegna stampa. Ma intanto avremo tempo di risentirci da stasera a domani e tutto il weekend. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.